Dopo il terremoto della notte scorsa, al momento le verifiche tecniche non hanno portato a criticità rilevabili sugli edifici pubblici e privati in regione. Da ore non si hanno più notizie di un giovane marinaio siriano imbarcato su una motonave dal porto di Ortona. La guardia costiera di Termoli partecipa alle ricerche. In piazza Municipio Accoglia Volturno le donne del paese hanno realizzato ad uncinetto un nuovo alto circa 3 metri in vista della Pasqua. Otto quintetti della massima serie della pallacanestro femminile a sfidarsi da oggi nel palazzetto dello sport di Selvapiana a Campobasso per la Coppa Italia. Buon pomeriggio dall'informazione di TLT. In Molise sono in corso gli accertamenti tecnici al fine di verificare eventuali danni visibili agli edifici pubblici. Prima, fra tutti gli istituti scolastici, sembra ci siano danni lievi solo nei centri storici in alcuni paesi che gravitano attorno a Montagano e Ripalimosani, epicentro delle scosse terroriche dell'altra notte. Scuole riaperte, in ogni caso questa mattina, nelle stesse località e soprattutto a Campobasso, mentre resteranno chiuse fino a domani in via precauzionale, gli istituti di Sant'Elia a Pianisi. Ulteriori approfondimenti ci saranno anche nei prossimi giorni. Nessuna criticità neanche agli edifici scolastici di Isernia e provincia. E continuiamo a parlare del sisma in regione. Conf Professioni evidenzia la necessità di misure certe per interventi su edifici pubblici e sulle abitazioni private. Un terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro a Montagano e tanta paura in Molise, un evento sismico avvertito anche in regioni limitrofe e che ha portato centinaia di persone ieri notte, intorno alla mezzanotte, a scendere in strada. Il sisma non è nuovo sul territorio e purtroppo riporta alla mente fatti tragici come quelli di San Giuliano di Puglia del 2002, in cui persero la vita 27 bambini e la loro insegnante per il crollo di una scuola a seguito di una scossa. Ebbene, da allora particolare attenzione viene prestata, in particolare la solidità delle strutture scolastiche. Così è accaduto ieri, quando i sindaci di numerosi paesi hanno chiuso gli istituti per le verifiche del caso. Un dovere è quello delle amministrazioni locali, ha commentato il presidente di Conf Professioni Molise, Riccardo Ricciardi, controllare scuole e luoghi istituzionali, chiese. Rialtà vissute quotidianamente dalla cittadinanza. Tuttavia, le ispezioni dovrebbero esserci periodicamente, considerato che in regione, come in gran parte dell'Italia, persistono strutture centenarie, ormai vetuste, stabili che in alcuni casi andrebbero addirittura abbattuti. Molto spesso, però, ha aggiunto il vertice della Confederazione, mancano le risorse economiche per farlo. Per tale motivo diventa fondamentale da parte del Governo nazionale in primis e poi degli altri enti pubblici prevedere delle misure che supportino interventi edilizi antisismici. Ormai, sulla via del tramonto e bonus legati al 110, andrebbero concepite diverse altre ipotesi di sostegno per continuare a percorrere la strada della rinascita di abitazioni, palazzi, scuole. Tutto con una cabina di regia che monitori e controlli effettivamente e costantemente l'andamento dei lavori, scansando la possibilità di raggiri. Marinaio siriano di 22 anni, partito da Urtona, disperso in Adriatico da diverse ore. A Termoli la Capitaneria di Porto, impegnata nelle operazioni di ricerca in soccorso della Guardia Costiera di Pescara. L'allarme è scattato in piena notte dallo scalo portuale abruzzese. La prefettura di Chieti si è attivata con il piano di ricerca di persone scomparse dalle navi. Le attività in mare sono coordinate dalla direzione marittima di Pescara. Restiamo in Abruzzo. La Guardia di Finanza spezza un vasto giro di droga nelle località Limitrofe, a Pescara. In carcere finisce un giovane pregiudicato del posto. Un giovane pescarese è stato sorpreso dagli uomini della finanza e tratto in arresto per il possesso di oltre un chilo di hashish diviso in 12 pianetti nascosti nella legna all'interno del garage di casa. L'operazione, denominata dai militari Drag Market, è stata portata avanti nell'Interland del capoluogo abruzzese, finalizzata al contrasto del traffico degli stupefacenti. Detenzione illecita di droga ai fini di spaccio, il reato contestato dai finanzieri a carico del 24enne pregiudicato. Le manette ai polsi sono scattate nella vicina località di Cepagatti, in prossimità dell'abitazione di un altro spacciatore, a sua volta deferito all'autorità giudiziaria poche settimane prima per traffico di cocaina ed hashish. La droga scoperta avrebbe consentito il confezionamento di migliaia di dosi per un valore commerciale vicino ai 15.000 euro. Al momento il giovane pusher si trova in cella in attesa dell'interrogatorio da parte dei magistrati. Nell'ambito della collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, il questore di Campobasso Vinto Montaruli è intervenuto stamane alla Scuola Allievi Carabinieri di Via Colle delle Api per tenere una conferenza sulle tematiche connesse alle funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza, con particolari riguarda l'emissione dei provvedimenti di polizia amministrativa in materia di misure di prevenzione. A Tufara è stato riaperto al pubblico l'ufficio postale dopo le opere di ristrutturazione, quella di Tufara è la quarta riapertura in regione dopo gli uffici postali di Macchiagodena, Macchia, Valfortore, San Massimo. Attualmente in Molise sono in corsi lavori di ammodernamento in altre cinque sedi. Cambiamo argomento, i consiglieri del Movimento 5 Stelle entrano in merito alle inefficienze dei centri per l'impiego e alle responsabilità del centro-destra che non è riuscita a realizzare alcun potenziamento di tali strutture. La gestione operativa dei centri per l'impiego in Italia è affidata alle regioni e dunque la loro, quasi ovunque, in efficienza e dichiara responsabilità diretta dei vertici regionali. Questa è la prima considerazione che fanno i consiglieri del gruppo del Movimento 5 Stelle che sottolineano il fatto che delle 20 regioni italiane i tre quarti sono governati dalle coalizioni di centro-destra che poco e niente hanno fatto per rendere efficienti ed efficaci quelli che possono e devono essere punti significativi di rilancio lavorativo. Affermano che nel 2019, insieme al reddito di cittadinanza, fu varato un piano straordinario per potenziare i centri. Attraverso una stima in tre anni avrebbero dovuto portare, a fronte di un finanziamento di un miliardo di euro, all'assunzione a tempo indeterminato di 11.600 nuovi operatori. Le regioni guidate dal centro-destra avrebbero dovuto inserire nelle strutture 6.116 unità di personale entro il 2021. È successo invece che al 31 dicembre del 2022, secondo i dati ministeriali, gli assunti sono stati 1.735, il 28%. Significativo inoltre il fatto che in alcune regioni come Basilicata, Calabria, Sicilia e naturalmente Molise, alla voce Assunzioni hanno scritto zero. Dunque siamo a ritardi in mani che certificano un enorme immobilismo e la volontà non mettere a posto questi luoghi dove si dovrebbero produrre le occasioni di lavoro che, tradotto in parole semplici, significa muovere al rilancio sostanziale delle attività sui territori e perciò nuove economie e nuovi sviluppi. A Termoli sono stati consegnati lavori per la realizzazione della ciclovia adriatica che prevedono la costruzione di una nuova pista ciclabine in vari punti dei comuni costieri di molisani sul mare. Le opere del nuovo cantiere sono state avviate per un importo complessivo di 5 milioni di euro. In contrada a Santa Lucia, la periferia di Campobasso, a ridosso delle coste di Oratino, il manto stradale sarebbe stato in alcuni tratti riaspaltato non completamente e i residenti sollecitano l'amministrazione a Palazzo San Giorgio nel garantire la conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile. Per la sicurezza degli automobilisti senza lasciare la contrada nell'incuria. Il ruolo della donna nel mondo del lavoro per migliorare la società e la salute dei bambini dall'Australia al Molise per presentare uno studio sull'importanza della parità di genere. Andiamo a vedere. Dottoressa, quando parliamo di parità di genere in Italia, quanto siamo lontani e cosa potrebbero fare le polisi attuali per migliorare questo divario? Sempre rispetto a questo report che viene redatto annualmente e che invito molti a guardare anche nelle scuole e informarsi da questo punto di vista. L'Italia a livello globale ha raggiunto un indice di uguaglianza dei genere intorno al 70%, ma è carente particolarmente nella partecipazione femminile al mercato del lavoro, dove si trova soltanto al 60%. Politiche di supporto per le donne sono la fornitura di servizi di asilo nido, perché ovviamente se una donna si trova a dover prendersi cura di un bambino diventa difficile rientrare al lavoro se non c'è qualcuno che può sostituirla. Molto spesso in Italia si conta sulla famiglia. La famiglia diventa un'istituzione, ma in realtà le istituzioni ci sono e dovrebbero in qualche modo sopperire a queste esigenze. Un altro tipo di politica molto importante è l'impegno concreto da parte dei datori di lavoro quando reclutano delle nuove forze lavoro, quando aprono una posizione, di avere all'interno del loro pool di candidati da esaminare un numero pari di uomini e donne, in modo tale che ci sia opportunità di essere considerati per entrambi. Molto spesso questo non avviene, soprattutto per posizioni in ambito STEM, dove chiaramente le donne ancora mancano. Ultimamente in tema di aiuti di Stato, l'Italia, ma l'Europa in particolare, sta contando molto sui fondi del PNRR per la misura 4.0 riguardante la scuola. Secondo lei potrebbe creare un ponte tra l'occupazione femminile e comunque la crescita dei ragazzi. Se si riferisce in particolar modo a incentivare le donne ad essere coinvolte in discipline STEM, è importante che ci siano politiche, ma è importante anche capire quali sono i motivi per cui le ragazze non studiano matematica quanto i ragazzi e non si iscrivono a facoltà come Ingegneria o Information Technology, che poi garantiscono un'occupazione e una carriera di tutto rispetto. Sono tanti i motivi. Intanto mancano i modelli, cioè le ragazze non vedono altre ragazze aver fatto un percorso simile per cui non si sentono ispirate e quindi sicuramente politiche di questo tipo o iniziative di questo tipo in cui modelli di ruolo, donne o ragazze che hanno effettuato scelte non conformi al genere a cui appartengono per ispirare le ragazze potrebbero essere importanti. Insegnanti, che ci siano insegnanti sia uomini e donne in tutte le discipline, in modo tale che ognuno possa riconoscersi nella figura dell'insegnante e venga ispirato da questo tipo di figura. A Palazzo Occola Grosso di Boiano nel tardo pomeriggio di oggi si svolgerà un incontro culturale sul tema medicina e società nel Settecento da un inedito manoscritto boianese e un incontro illustrativo in cui l'autore Pietro Petto Grosso presenterà il suo ultimo lavoro effettuato su quel periodo storico attraverso un interessante documento redatto da un medico dell'epoca. La trattazione considera principalmente le malattie delle donne e dei bambini nel mondo occidentale e la mortalità della popolazione di quei tempi. Da Boiano ci spostiamo a Montenero di Bisaccia. Il primo cittadino, Simona Contucci, ha ricevuto la visita di una delegazione di docenti locali internazionali nell'ambito dei programmi Erasmus 2021-2023, che vede la partecipazione di Svezia, Spagna, Romania, Turchia e Italia. Grazie a questi progetti gli studenti hanno l'opportunità di studiare all'estero, imparare nuove lingue, conoscere altre culture e ampliare i propri orizzonti accademici e professionali. Cambiamo ancora argomento. È doveroso da parte dei cittadini attuare una corretta raccolta differenziata e il rifiuto può trasformarsi in risorsa dando vita ad una economia circolare. Esistono comuni che in Molise, come in altre regioni d'Italia, della raccolta differenziata ne hanno fatto un punto di forza. Non senza sacrifici, tante amministrazioni hanno colto i vantaggi di una corretta gestione dei rifiuti, affinché questi ultimi possano diventare una risorsa. E le esperienze in questa direzione sono diverse. Criticità ed opportunità di un sistema di raccolta sono state raccontate, analizzate e valutate in occasione del convegno organizzato all'ARPA Molise a Campobasso. Da rifiuto a risorsa, la gestione dei rifiuti urbani, esperienze a confronto, il titolo dell'incontro, a cui ha preso parte anche il professore Fausto Cavallaro dell'Università degli Studi del Molise, che tra tutto si è soffermato sul ruolo della raccolta differenziata nella transizione ecologica, parlando quindi di spese per cittadini e di imprese e quindi di economia circolare. Sostanzialmente alla base di un progetto di raccolta differenziata si può attuare una reale economia circolare. L'economia circolare, il presupposto dell'economia circolare, è quello di riutilizzo di residui che derivano da una corretta gestione dei rifiuti e quindi dalle diverse filiere di rifiuto che viene recuperato. Dunque l'orientamento della Commissione europea ormai è verso un modello di economia circolare e quindi verso un modello di economia in cui una frazione importante dei rifiuti viene valorizzata e rientra nei cicli di produzione per essere nuovi prodotti, per essere recuperata e riutilizzata nelle varie forme. Alcuni territori tuttavia sono in ritardo rispetto alla raccolta differenziata, andrebbero per questo applicate delle politiche mirate. È pur vero che vi sono delle regioni ancora un po' indietro, in ritardo, in qualche modo bisogna immaginare dei meccanismi che possano incentivare questo tipo di processo virtuoso. Me ne viene uno in mente, ma potrebbero elencare tanti, quello di creare un incentivo, un sussidio affinché si possa aumentare questa quota. Ad esempio ci sono varie città che hanno sperimentato uno sconto nella parte variabile della Tari, quindi la quota variabile della Tari, a fronte di un deposito di restituzione di quote, di raccolte di rifiuti che vengono selezionati nelle varie abitazioni. Faccio un esempio, in alcune città sono stati elargiti dai comuni sconti anche consistenti, pari al 30% sulla quota variabile, a fronte di una produzione annua di un certo numero di chili, sono 50 chili a persona, poi dipende chiaramente dalle diverse situazioni, poi vengono modulate rispetto anche alle esigenze del tempo. All'attore e regista di origine di Duronia, Elio Germano, gli verrà conferito nel pomeriggio di oggi al convitto Mario Pagano del Capoluogo il premio San Giorgio dal Centro Studi in Molisano per la sua intensa e proficua attività nel campo della cultura e dell'arte cinematografica. Sempre a Campobasso il convegno l'autismo nell'arco di vita, bisogni e risorse nel territorio, oggi a partire dalle ore 15 al cinema maestoso. In vista della Pasqua un uovo gigante realizzato interamente ad uncinetto è stato sistemato in piazza Municipio nel paese di Collia Volturno. È alto circa 3 metri ed è di colore giallo, è circondato da animaletti e fiori e si trova nella piazza di un paese della Valle del Volturno. Parliamo dell'uovo delle uncinettine di Collia Volturno. Dopo l'albero di Natale non poteva mancare l'uovo di Pasqua, quindi ci siamo messi all'opera e con tanto sacrificio, con tanto lavoro, siamo riusciti a fare questo capolavoro per noi, poi agli altri il giudizio successivo. Animaletti, tulipani, per fare, per addobbare tipo un giardino. Quanto tempo avete impiegato? Beh, quanto tempo abbiamo impiegato? Eh, più o meno da gennaio. Sì, due o tre mesi, un paio di mesi. Un gruppo di 25 donne legate dalla stessa passione, quella dei lavori eseguiti all'uncinetto. È nato per caso, così, un'idea proprio dall'uovo di Pasqua, perché vedendo una foto dell'uovo di Pasqua su Facebook mi viene in mente scrissi chi mi dà una mano a realizzarlo. E da lì tutte hanno dato la loro adesione. Abbiamo fatto il lavoro per Corpus Domini, il primo grandissimo lavoro, poi abbiamo fatto un quadro di colli, abbiamo fatto le mattonelle per Viva Vittoria. a Natale, l'albero di Natale. Adesso ci prepariamo per il Corpus Domini di nuovo, così chiudiamo l'anno. Poi, non so, le idee poi ci vengono anche all'improvviso. Domenica 2 aprile, le uncinettine vi aspettano in piazza Municipio con un mercatino pasquale. Due nuove date della Kermess Palcoscenici, il Molise di Scena, cartellone curato da Regione e Fondazione Molise Cultura. Un viaggio tra laude, canzoni spirituali, canti della passione, accompagnato dagli strumenti della tradizione appenninica del centro Italia, quello che porterà in scena Ambrogio Sparagna insieme ai solisti dell'Orchestra Popolare dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Appuntamento questa sera alle 21 al Teatro Risorgimento a Larino e domani, alla stessa ora, al Teatro di Casa Calenda. Il principe Alberto Di Monaco ha raccolto l'invito del presidente della Federazione Internazionale Donatori di Sangue, Lisernino Gianfranco Massaro, e ha inviato un video per sensibilizzare le persone e spingerle alla donazione. Donare il sangue è un atto di generosità nei confronti dell'altro e di noi stessi. Sono queste alcune delle parole che il principe Alberto Di Monaco ha affidato ad un video attraverso il quale promuove la donazione, un atto che lo distingue per il valore di solidarietà, espresso più volte e ogni volta le circostanze lo richiedessero. Il video è di fatto la risposta concreta ad un invito rivolto al Donarca Monegasco dall'isernino Gianfranco Massaro, che è il presidente della Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue e del Centro di Servizio per il Volontariato del Molise. Una risposta positiva che conferma la continuazione dell'impegno alla solidarietà della famiglia Grimaldi e soprattutto del padre, Ranieri III di Monaco, che nel 1993 istituì il riconoscimento di una medaglia al merito per la donazione del sangue. Nell'intervento il principe ha voluto sottolineare quello che considera un atto di salvaguardia della salute, affermando che finché esiste un donatore esiste l'opportunità di vivere. Oggi alle 17.30 al Museo Sanitico di Campovasso il direttore Davide Delfino illustrerà come nacque e si consolidò in Europa il fenomeno degli abitati fortificati sulle alture. Ingresso è libero, l'endometriosi, la patologia invalidante che pesa sulla vita di milioni di donne, nel mondo, al centro della trasmissione, raccontiamoci in onda sulla nostra rete. Questa sera alle 21 con replica domani alle 15.30. L'impegno di un gruppo di donne di parlare di endometriosi a Campobasso, scegliendo di farlo attraverso l'arte e la cultura, mettendo a disposizione di tutti le proprie esigenze e i problemi immensi causati da una patologia invalidante che grava su milioni di donne nel mondo. Una mostra, il mio corpo è un campo minato, le riflessioni collettive, le opere degli artisti, la denuncia sociale e la richiesta, fortemente significativa, di saperne di più, di conoscere e soprattutto capire. Nell'occasione questa sera, alle 21, la nostra emittente propone, nel corso del programma Raccontiamoci, una intervista ad Isabella Benigno, ideatrice della mostra. Di endometriosi ne sono affette solo in Italia 3 milioni di donne, di persone con utero e in tutto il mondo siamo 150 milioni, quindi sono numeri importanti, endometriosi significa una donna su 10 e spesso non solo la diagnosi è molto tardiva, si va dai 7 agli 11 anni, nel mio caso 15, ma si scopre, perché in alcune persone per fortuna è asintomatica, ma si scopre per l'infertilità che questa patologia porta. Non in tutti i casi endometriosi significa infertilità, però una buona percentuale, un 45% di donne affette da endometriosi purtroppo non sono anche sterili di fatto o comunque hanno parecchie difficoltà nel concepire. Endometriosi è un termine che è vero, è sconosciuto ultimamente, negli ultimi due anni forse se ne sta parlando tanto, grazie alle associazioni, grazie anche a personaggi popolari che l'hanno portata in auge, note al pubblico mainstream. Nel nostro piccolo, visto che in Molise soprattutto è ancora più sconosciuta, io e Lucrezia Cicchese ci stiamo impegnando come persone singole, quantomeno per ora, stiamo iniziando questo percorso di consapevolezza. Adesso, come ogni giorno, spazio al meteo! Metalimpianti Metalimpianti Carpenterie metalliche civili e industriali Scale Acciaio Corten Serramenti in alluminio PVC E legno alluminio Metalimpianti Boiano Info 0874 77 34 54 Gruppo Zulli dal 1975 Con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica Zulli ceramiche a Città Sant'Angelo e nei pressi di Mondo Convenienza Aperti tutti i giorni, compresa la domenica La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve Specialisti delle batterie e degli accumulatori E in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo Poco nuvoloso oggi su Molise d'Abruzzo In Molise temperature comprese tra i 3 gradi di Campobasso e 17 gradi di Isernia In Abruzzo tra la minima di 3 gradi e la massima di 19 gradi a Chieti Venti deboli provenienti da sud, poco mosso, il medio adriatico Dubbi sparse con valori climatici massimi in calo domani sulle due regioni T.L.T. in rete Il meglio della palla canestro femminile italiana da oggi a Campobasso fino a sabato Alla Molisana Arena per sfidarsi nella Coppa Italia di basket di A1 Ad aprire le danze nell'ordine i Quintetti Schio contro Ragusa, Dinamo Sassarigeas, Sesto San Giovanni Umana, Reier Venezia, San Martino di Lupari E infine alle ore 20 le padrone di casa della Magnolia Dovranno vedersi raccontro l'altra capolista del campionato, la Virtus Bologna Otto formazioni in lizza per il titolo tricolore 2023 Dalla palla canestro passiamo al calcio Sabato dopo domani l'anticipo clou del torneo di eccellenza La capolista a Campobasso sfiderà il venafro sul terreno del Marchese del Prete Trasperta sulla carta più abbordabile per l'Isernia Guglionesi Davide Fruscella si aspettava soltanto questa partita L'abbiamo vinta con Grinda, con Cattiveria Si è tornato anche in campo e è andato tutto secondo i piani Sì era una partita molto difficile, molto combattuta Però l'importante era portare a casa i tre punti E l'abbiamo fatto con grande grinta e sofferenza Però ce l'abbiamo fatto Ecco il parziale forse poteva essere anche un po' più rotondo Soprattutto per quello che abbiamo mostrato in questo secondo tempo Sì purtroppo ci siamo mangiati un po' di gol Il mio e qualcun altro Però l'ho detto l'importante era portare a casa i tre punti Ora già pensiamo a sabato prossimo Che ci aspetta un'altra battaglia a Venafro Sei stato fuori diversi mesi Nei momenti un po' diciamo difficili Però sei rientrato, sei pronto a dare il tuo contributo In questa fase finale, in questo rush finale Sì purtroppo ho avuto uno stiramento E poi una ricaduta Però devo ringraziare comunque Michele Ricciardi, Michael, Alessio, Gianluca Un po' tutti che comunque mi hanno rimesso in sesto Sabato primo e domenica 2 aprile E dal mattino nel pomeriggio sono fissate le premiazioni Ed era questa la nostra ultima informazione Grazie e arrivederci se lo vorrete A questa sera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti